mille modi per riempire una o meglio Fabrizio va cavolo che si cimenta in una cillitta no no forse non ne capite allora c'è un metodo efficace e rapido lo devi trovare stiamo parlando di uno che prende tutti i 9-8 e giusti anche qualche 10 a volte no non è questo che fa schifo poi miiii c'è arrivò solo che ha qualche problema questa sesta tecnica anche nella sua realizzazione era questo lato nella manica io però ce ne hai messo di tempo bisogna semplicemente saperlo applicare provvedo che hai